specialista in scienze dell'alimentazione mi stava appunto correggendo il dottor salvatore cusenza buongiorno benvenuto buongiorno allora ho tante domande da farti questa mattina prima tra tutte inizia l'anno scolastico routine di figli e nipoti abbiamo tante mamme tante nonne tante zie che ci seguono parliamo di alimentazione anche perché abbiamo letto recentemente un articolo che parla di obesità infantile un bimbo su quattro è in sovrappeso sovrappeso che sappiamo essere un po l'anticamera potrebbe essere anche l'anticamera dell'obesità consigli per una dieta corretta che cosa fare quando si è piccoli allora considerando che il tessuto adiposo il numero di cellule di tessuto adiposo si forma dai 0 ai 7 8 anni avere una dimensione corretta in questa età fa sì che poi da adulti non avremo un numero eccessivo di cellule adipose che poi sono quelle che immagazzinano il grasso l'adipe quindi meno cellule adipose si formano e meno ingrasseremo a questo serve una corretta alimentazione da bambini quindi levitare il surplus con i carboidrati merende merentine pasta pane in modo esagerato il dato che hai appena citato è un dato che si riferisce a tutto l'italia un bambino su quattro sovrappeso di questi il 7 8 10 per cento peso ma se da questo dato togliamo il dato del sud italia arriviamo a uno su tre bambini sovrappesi obesi e questo lo si può vedere tranquillamente quando si va in spiaggia bambini di un metro altezza con un panino di mezzo metro è un esempio che che cito spesso ma che che si nota bisognerebbe fare delle correzioni proprio a livello di nazione prevenzione a livello di stato nazione per poi tra 10 15 20 anni avere meno diabetici meno infarti meno ictus meno patologici quindi il famoso panino ricordo quando si andava a scuola no il rito prima di entrare in classe sia alle scuole elementari ma anche alle scuole medie di comprare il panino di una certa dimensione che era veramente un bel panino e comprarlo col prosciutto col prosciutto crudo per poi mangiarlo a metà mattinata è una è qualcosa di scorretto che non va bene non è scorretto la verità è che 30 anni fa quel bel panino di quelle dimensioni aveva un senso perché i bambini non passavano le giornate fermi con un computer o un cellulare dopo la scuola erano perennemente attivi a giocare correre adesso il panino lo si può fare ma riducendo dimezzando le misure 50 grammi possono andar bene il panino 50 grammi e panino piccolo perché poi a parte le le due ore di educazione fisica a scuola o per chi va a fare qualche attività sportiva il moto è quasi a presente quindi in base a quello che consumi dovresti assumere calorie non puoi mangiare come 30 anni fa ma facendo quattro volte meno il movimento e di conseguenza poi troviamo una popolazione in età tuberale con pesi eccessivi con 14 sovrappeso ripeto dal sud italia è uno su tre nel sud italia perché c'è un eccesso di consumi di farinaci troppo è quello il problema se andiamo al supermercato e tu lo sai bene vediamo appunto negli scaffali una serie di merendine e dolciumi quasi spropositato che uno non sa quale scegliere e anche la pubblicità in televisione perché poi sono messo sempre all'altezza uomo che dove l'occhio l'occhio cade lì cioè sono proprio delle tecniche di comunicazione dei supermercati far vendere quello che interessa quello che poi a livello celebrale nel bambino dell'adulto crea dipendenza perché arricchiti con degli zuccheri delle cose creano quel senso di di asserfazione come una droga tanto è vero che sono stati fatti gli studi in cui si vedeva come lo zucchero agiva nella stessa parte della corteccia cerebrale dove agivano le droghe cocaina eroina nicotina dando asserfazione dando dando dipendenza cioè mi capita spesso di sentire per me il dolce è come una droga è una droga lo zucchero è una droga a tutti gli effetti più ne mangi più ne vuoi e che differenza c'è una mamma magari dice io preferisco fare un dolce casalingo anziché comprare le merendine al supermercato è sempre zucchero esattamente lo zucchero sempre quelle logicamente in modo casalingo si va a evitare tutta la parte di eccipienti conservanti puoi anche di usare meno zucchero puoi usare anche qualche dolcificante l'eritritolo qualche altro tipo di zucchero meno tossico di dello zucchero bianco quindi diventa un po più naturale cercando di usare non farine ultra raffinate ma farine tipo 1 2 o integrale quindi abbassando l'indice glicemico gli alimenti ricordo cos'è l'indice glicemico degli alimenti è il potere di un alimento di far alzare la glicemia e quindi di stressare il pancreas a produrre insulina più è basso è meglio se troppo alto crea una curva glicemica insulina alta e subito viene digerito l'alimento e subito si affame certo bisognerebbe educare i bambini poi al sapore no magari del meno dolce ridurre lo zucchero e farli abituare al sapore meno dolce perché poi più si abita al dolce più non si senti il dolce più se ne vuole è una droga a proposito di droga detto in maniera molto casalinga insomma c'è una famosa crema le nocciole alla quale siamo siamo cresciuti noi a pane e nutella diciamolo pure tanto di che poi il nome è nut nocciole ma di nocciole c'è il 6 per cento ecco tutto il resto è zucchero e olio di colza però è buona perché da dipendenza ci sono altre creme con altri nomi commerciali dove la percentuale di nocciole arriva anche al 40 45 per cento potremmo preferirla ovviamente e ma non è la stessa cosa ma a parte questo no no le ho provate le ho provate però a proposito di questa famosa crema le nocciole ultimamente ho visto ma credo che lo abbia l'abbia vista anche tu la pubblicità di la notizia a me non è di questa famosa crema che è diventata vegana quindi uno potrebbe anche pensare vegana senza lattosio forse boh con meno zuccheri pare che ci sia sciroppo di riso qualcosa che è legata ai ceci più leggera invece di mangiarne un cucchiaio me le posso mangiare cinque vegano non significa più leggero vegano significa che non ci sono alimenti di origine animale punto quando mangi il cornetto vegano invece di mangiare il cornetto con il burro che è più buono mangerai un cornetto con degli oli idrogenati non so di quale provenienza forse olio di macchina non lo so questa è la differenza tra il vegano e il non vegano certo la nutella vegana ancora non l'ho assaggiata non credo di assaggiarla probabilmente poi la proverò anche per capire di cosa si tratta ma male faceva la nutella normale e male farà quella vegana a quel punto prendo quella normale se lo sfizio lo devo me lo devo togliere ogni tanto però probabilmente quella vegana è senza lattosio probabilmente sicuramente sì ma anche perché poi nella nella nutella tutta questa grande quantità di latte non c'è parliamo di piccole percentuali di latte in polvere credo certo allora volevo farti un'altra domanda a proposito del abbiamo parlato dei bambini degli adolescenti c'è una vicenda che ha colpito un giovanissimo figlio d'arte il figlio di del capitano capitano della roma francesco totti il figlio cristian totti è stato vittima di body shaming perché è un ragazzo abbastanza robusto l'hanno preso in giro per la sua forma fisica l'hanno preso in giro per la sua forma fisica ma il suo allenatore che è un ex collega del padre ha semplicemente risposto dicendo che non è grasso semplicemente grosso una struttura fisica grossa anche perché poi per farlo giocare ok sarà anche amico o raccomandato ma in campo devi correre quindi se corre o non corre o fa il portiere comunque si muove quindi probabilmente c'è anche dell'invidia perché il figlio di a parte questo volevo puntare l'attenzione su un'altra domanda quando si ha un figlio che gioca a calcio un figlio che magari pratica uno sport deve seguire un'alimentazione diversa collegandoci a quello che dicevi prima deve l'introito calorico deve essere maggiore allora io faccio sempre questo esempio una macchina normale usa una benzina normale una macchina di formula usa usa una benzina che costa quasi 30 dollari al litro sono benzine diverse chi fa sport deve avere un'alimentazione diversa almeno che non fa sport una volta a settimana un'ora c'è un senso non cambia nulla ma se uno è un assiduo frequentatore tre quattro ore a settimana cinque ore a settimana di allenamento deve sicuramente cambiare il modo di mangiare cercando di aumentare anche il carico calorico parliamo di un gramme 5 un gramme 6 di proteine per chilo corpore fino ad arrivare anche a due dipende poi dal tipo di sport che si fa e tarare bene il quantitativo di carboidrati creando un equilibrio dalla mattina alla sera quindi c'è un'alimentazione diversa da seguire se poi deve mettere su massa muscolare se deve perdere grassa se deve fare uno sport di resistenza uno sport di potenza bisogna anche vedere che tipo di sport deve fare e poi magari di questo argomento torno su questo argomento torneremo in conclusione so che anche questo è un argomento molto vasto nutrizione e longevità si influenzano mangiare bene significa vivere più a lungo parliamo di Walter Longo che partì da Genoa tantissimi anni fa per andare a Los Angeles per suonare la chitarra originario della Calabria va a Los Angeles per suonare la chitarra e rimane affascinato dalle scienze biologiche si lavorano in scienze biologiche e inizia il percorso alla Southern California qualcosa del genere dove poi è diventato un genio a livello mondiale per quanto riguarda la dieta a minimo e digiuno il digiuno intermittente per la cura delle patologie oncologiche per il dimagrimento e per allungare la vita la restrizione calorica allunga la vita perché meno si mangia e meno il corpo si stanca e si consuma una domanda gli ultracentenari come sono grassi o secchi probabilmente molto magri molto magri conosci un ultracentenario obeso non esistono sono tutti delle stecche proprio perché loro hanno sempre condotto una vita con tanto lavoro e poca alimentazione gli ultracentenari sono tutti magri poi ci sono delle delle zone del mondo dove questa cosa è estremizzata in Giappone in Calabria in Sardegna ci sono delle zone quindi Walter Longo sono anni che studia la restrizione calorica per allungare la vita e anche ho letto alcune cose ho visto anche alcuni studi dove anche se uno parte a 70 anni 75 anni a cambiare lo stile di vita potrebbe allungare la sua vita di 4 5 anni che non è poco figuriamoci se questo stile di vita si adotta in età precoce veramente si allunga la vita di 10 15 20 anni perché si riducono la probabilità di ammalarsi se già abbiamo una tè maglia di 80 82 anni potremmo anche pensare di 90 95 100 in buona salute in buona salute logicamente non in cattiva salute quindi la restrizione calorica crea un'infiammazione riduce l'infiammazione del corpo perché l'introdurre cibo attiva dei meccanismi quindi la macchina è in continuo movimento è come se noi facessimo lavorare una macchina 24 ore al giorno sempre accesa la stessa cosa bene allora mi sento rinfrancata non lo so allora pensi di vivere di più perché adotterai una restrizione calorica una dieta mima digiuno una dieta mima digiuno però ogni tanto uno sfizio un bel piatto di pasta però Walter Longo partì con la restrizione con la dieta mima digiuno con dei cicli cinque giorni all'anno all'inizio poi l'adotto per cinque giorni a semestre addirittura adesso siamo arrivati anche ad adottarle cinque giorni al mese di restrizione calorica di digiuno intermittente dove fondamentalmente in questo periodo il la persona il paziente chi viene studiato si alimenta soprattutto di vegetali proteine vegetali e pochissime proteine animali preferendo il pesce ma soprattutto viene fatto più sulle proteine vegetali essi vegetali quindi proprio purificare il corpo e farlo e stressarlo poco ottimo grazie dottor salvatore cusenza specialista in scienze dell'alimentazione mi dispiace ma il sottopancia riporta il biologo nutrizionista lo cambieremo adesso ci fermiamo due settimane perché daremo spazio alla programmazione dedicata alla novena di san pio ma ti promettiamo che ti faremo trovare un sottopancia nuovo per la prima sempre se sei disponibile a tornare grazie grazie salvatore cusenza per essere stato con noi buona giornata e buon lavoro a te sì che andiamo in pubblicità e poi parleremo di viaggi grazie a tutti grazie a tutti